Porta in Valtellina una notizia di cronaca nazionale. Viene infatti dalla provincia di Sondrio Raul Rodriguez da Silva, il molestatore italiano di origini brasiliane arrestato a Imola il 19 marzo scorso. L'uomo è risultato essere un pregiudicato già noto alle forze dell'ordine. Il camionista, residente a Berbenno, deve rispondere al reato di violenza sessuale aggravata, ma era già stato condannato a quattro anni di pena per tre episodi simili, avvenuti in provincia di Sondrio. Il 36enne questa volta è finito in manette in seguito all'intervento dei poliziotti della squadra mobile di Milano, che hanno operato unitamente al personale del commissariato di Monza. In base alle informazioni dell'agenzia di comunicazione ADN Cronos, l'uomo avrebbe preso di mira una ragazza di 12 anni. La minorenne, aggredita all'interno dell'ascensore del proprio condominio, avrebbe immediatamente lanciato l'allarme, mettendo così in fuga il vale intenzionato. Le indagini, coordinate dalla procura di Monza, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 36enne, rintracciato nella città di Imola e ora rinchiuso nella casa circondariale di Bologna. Il decreto di fermo è stato convalidato dal GIP ed è stata disposta alla custodia cautelare in carcere.